La mia esperienza ad oggi col kettlebell è abbastanza breve perché mi alleno da sei mesi soltanto circa ma posso affermare che già dopo i primi due o tre mesi quindi praticamente subito ho iniziato ad osservare dei netti miglioramenti sia dal punto di vista della forza che sono riuscito a sviluppare sia anche dal punto di vista muscolare perché decisamente il mio fisico ne ha tratto enorme vantaggio sebbene prima di iniziare non gli avrei dato molte possibilità oggi al contrario posso dire con certezza che l'allenamento col kettlebell mi piace molto perché è un allenamento molto dinamico al contrario di come si possa pensare non è per niente noioso ogni allenamento è diverso dagli altri quindi questa originalità mi piace molto perché da questo punto di vista è stimolante per me è un altro aspetto che mi è particolarmente piaciuto è il fatto di riuscire a bilanciare perfettamente la forza fisica con un giusto assetto mentale quindi con la giusta concentrazione che secondo me può essere davvero il limite per questo allenamento una volta che si riesce a fare questo secondo me si può andare sempre oltre che si riesce a fare questo secondo me si può andare sempre a fare questo secondo me